La crisi del settore delle costruzioni ha colpito duramente anche le marche. I sindacati hanno quindi proclamato uno sciopero nazionale per venerdì prossimo chiedendo al governo di istituire un tavolo per rilanciare il comparto. Guido Maurino. Nelle marche ci sono 5 miliardi di euro di opere già finanziate ma ferme a cui si aggiunge oltre un miliardo e mezzo per la ricostruzione che stenta a partire e tutto questo mentre le aziende delle costruzioni continuano a chiudere e a tagliare il numero dei dipendenti. 3.000 imprese e 13.000 posti di lavoro sono stati cancellati negli ultimi 10 anni. I dati sono stati presentati dai sindacati del settore di Cigelle e Ciste Will che aderiscono allo sciopero del 15 marzo che in tutta Italia fermerà i lavoratori del settore delle costruzioni, del legno arredo, delle cave e delle fornaci. Un modo per chiedere al governo di intervenire sulla crisi del comparto sbloccando grandi e piccole opere, fra queste ovviamente anche quelle legate al post terremoto. Purtroppo a due anni e mezzo però dall'evento sismico del 2016 noi assistiamo a una lentezza della ricostruzione. Una ricostruzione che riguarda 42.000 edifici danneggiati tra privati e pubblici e appena l'8% è stato ricostruito. Stiamo parlando di circa un miliardo e sei di risorse che possono essere destinate alla ricostruzione e possono essere un volano per il settore delle costruzioni marchigiano. Dai sindacati arriva anche la richiesta, preoccupata, al commissario Farabollini di non depotenziare il DURC di congruità, vale a dire quello strumento che individua il numero di dipendenti necessari per eseguire un lavoro. Nel settore edile infatti la media di ore mensili lavorate si attesta attorno a 110, vale a dire 5 ore al giorno. Segno, affermano i sindacati, che c'è ancora un pesante ricorso al lavoro nero o grigio.